E' stato ucciso con diversi colpi di pistola mentre lavorava degli impianti per il Consorzio Idrico dello Stretto. A segnalare la presenza del corpo riverso a terra in un appezzamento di terra di questa zona di campagna di Rosario Valanidi, chiamata località Candico, è stata una telefonata giunta al 112 attorno alle 19.30 di ieri sera. La vittima si chiamava Francesco Cuzzocrea, 61 anni, ed era del posto. Nei suoi confronti in passato erano state fatte segnalazioni di polizia ma risalenti nel tempo e non riguardanti fatti specifici legati alla criminalità organizzata. Ecco perché per i carabinieri del reparto operativo del Comando Provinciale e della Compagnia di Reggio Calabria al momento non è possibile definire con certezza il contesto all'interno del quale è maturato il delitto, su cui tuttavia stanno indagando già i magistrati antimafia della Procura Regina. Dopo il ritrovamento del corpo, gli investigatori dell'arma hanno isolato la zona battendo tutta l'area circostante. Una zona a vigneti, agrumeti e bergamotteti che si estende a ridosso della fiumara del Valanidi e non di facile accesso se non per i proprietari dei numerosi fondi che qui insistono ai residenti di alcune abitazioni circostanti. Una zona estesa che ha dato la possibilità al killer o ai killer di agire indisturbati e non escluso la luce delle modalità e delle circostanze che chi ha sparato conoscesse bene i movimenti e le abitudini della vittima. Per tutta la notte sono stati sentiti i parenti dell'uomo e avviate perquisizioni nei confronti di pregiudicati della zona. In particolare si è tentato di ricostruire le ultime ore di vita di Cuzzocrea per poi procedere questa mattina a nuovi rilievi con il supporto degli specialisti della scientifica dell'arma. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa circa il movente del delitto ma resta naturalmente il giallo.